Grandi novità per tutti gli appassionati di ciclismo, questa mattina in Via Napoli davanti a uno dei negozi storici delle due ruote Fiocca, il tradizionale test bike annuo organizzato da una delle marche più importanti del settore, la Scott, che in quest'ultimo periodo si è distinta per essersi accaparrata con 13 dei suoi modelli, le Olimpiadi e le Coppe del Mondo femminile e maschile. Sassari è considerata una piazza molto importante.